Allora, la seconda canzone esce su 45 giri del 1972, è la traduzione di Joan of Arc di Leonard Cohen, che è un poeta scrittore e canto-autore canadese. Nel 1974 il pezzo sarà inserito nell'album Canzoni, Giovanna d'Arco. Allora, la seconda canzone è la traduzione di Joan of Arc. Allora, la seconda canzone è la traduzione di Joan of Arc. Allora, la seconda canzone è la traduzione di Joan of Arc. Allora, la seconda canzone è la traduzione di Joan of Arc. Allora, la seconda canzone è la traduzione di Joan of Arc. Allora, la seconda canzone è la traduzione di Joan of Arc. Allora, la seconda canzone è la traduzione di Joan of Arc. Allora, la seconda canzone è la traduzione di Joan of Arc. Allora, la seconda canzone è la traduzione di Joan of Arc. Allora, la seconda canzone è la traduzione di Joan of Arc. Raffreddati un poco Le tue mani ora avranno da tenere qualcosa E facendo che si arrampico dentro Ad offrirgli il suo modo migliore di essere sposa E nel profondo del suo cuore rovente Lui presa ad avvolgere Giovanna d'arco e lei in alto E davanti alla gente Lui appese le ceneri inutili del suo abito pianto E fu dal profondo del suo cuore rovente Che lui prese Giovanna e la colpì nel segno E lei capì chiaramente Che se lui era il fuoco Doveva essere il mio La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Grazie a tutti.